Una volta Federico il Grande stava per dichiarare guerra. Chiamò il suo segretario per scrivere il proclama di guerra. Il segretario cominciò a scrivere, Federico il Grande, re di Prussia per volontà di Dio, proclama guerra per fermare il male nelle province di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Smettila di mentire, tuo no Federico. Scrivi semplicemente, Federico vuole più terra. Questa è la fine. Incredibile come danno la colpa a Dio per cose che loro fanno per motivi egoisti. E anche oggi fanno lo stesso. Non tanto nel nome di Dio, però sempre gli stessi motivi egoisti. E' tutto. E' tutto. E' tutto.